Allora, è arrivato anche io il coronavirus. Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli che sono previsti in questi casi per tutti. Sto bene e quindi è stato scelto l'isolamento domiciliare. Continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire tranquillamente. La mia famiglia anche sta seguendo quelli che sono i protocolli che si seguono in queste situazioni. La ASL sta contattando ovviamente le persone che in questi giorni sono state più vicine al lavoro per i colloqui e per le verifiche del caso. Ho informato ovviamente il vicepresidente Leodori della giunta regionale per mandare avanti il lavoro, così come il vice segretario del PT Orlando con gli organismi in carica seguirà tutte le attività politiche. Io ho sempre detto niente panico, combattiamo e quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo alla lettera quelle che sono le disposizioni dei medici e della scienza, tentando di dare una mano lavorando da casa per quello che sarà possibile e combatto come è giusto fare in questo momento per ciascuno di noi e per tutto il paese. Quindi a presto, ciao!